Una santa vera, autentica e calorosa, direi, Pasqua per tutti. Per chi crede e per chi non crede, per chi crede in un certo modo e per chi crede in una maniera diversa, per chi è indifferente. Perché la Pasqua ha un grande messaggio. La Pasqua che è l'evento della nostra rinascita in Cristo. Questo Cristo che è la nostra vita. Questo Cristo che è la nostra luce. Noi siamo uomini pasquali perché siamo battezzati. Cioè noi siamo innestati in Cristo. Di Lui abbiamo la sua forza, di Lui abbiamo il suo coraggio, abbiamo la sua capacità di amare. Di Lui abbiamo anche la capacità e la possibilità, se camminiamo con Lui, di essere luci per gli altri. Ma vorrei soffermarmi e farvi un augurio che ci inviti a guardare con speranza alle diversità positive e negative che ci sono nel mondo. La Pasqua è veramente la festa di questo Dio che è morto per noi nel Figlio ed è risorto per renderci una sola famiglia. Non renderci tutti uguali, ma nella nostra diversità renderci fratelli, renderci sorelle, renderci felici. Il giorno di Pasqua del 1999, sempre Monsignor Bregantini, che ci ha accompagnato per tutta la settimana con le sue profonde riflessioni, così diceva alla sua gente a Locri. Dio non ci ha fatti uguali, ci ha fatti diversi perché imparassimo ad amarci e a rispettarci così come siamo. Se è piccolo, ti rispetto per quello che sei. Se è anziano, hai dentro la sapienza. Se è un papà o una mamma, ti dico coraggio. Tutti siamo ugualmente preziosi e importanti. Impariamo a educare i bambini a non aver sempre ragione, piuttosto a dire cerchiamo la verità, cerchiamo la pace, cerchiamo il rispetto. Tutti sono preziosi. È la grande lezione di questa Pasqua. Sì, la Pasqua deve farci comprendere che tutti, anche coloro che noi consideriamo nostri nemici, hanno il loro valore, hanno la loro preziosità. Pasqua oggi deve, vuol dire e significare per te e per me, vedere nell'altro la possibilità di un cambiamento, vedere nell'altro il seme di una speranza, vedere nell'altro la via per cercare la verità, vedere nell'altro la forza per riportare nella nostra esistenza, nelle nostre famiglie, nelle nostre scuole, nelle nostre comunità parrocchiali, nelle nostre piazze, nelle nostre città, nei nostri comuni, nel mondo, il rispetto, il valore del rispetto. Cristo, con la sua morte, con la sua resurrezione, ci dice che rispecchiarsi in Lui vuol dire rispecchiarsi nell'uomo chiamato ad essere l'uomo della resurrezione. Ancora un forte e un caloroso auguri a tutti. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Sous-titrage ST' 501